Salve, il signore ha deciso di bussare alla tua porta No, scusate, stavo riposando, non è il momento adatto E chi lo dice che non è il momento adatto? Chi ha tempo non aspetti tempo Il tempo è adesso Il signore ha bussato alla tua porta Quando sarà finito con questo campanello, io non sto nemmeno da riposare Non è nel tuo letto che troverai la fede, pensaci, la senti la voce? Eh, la senti? La senti? Eh? Credi che è nel tuo letto che ascoltare la voce? Ma qual è la voce? Ascolta la voce I giovani devono ascoltare la voce del signore La senti la voce? Il signore ha bussato alla tua porta Adoro il suo campanello, io non credo a niente Non credo a niente E' per colpa di giovani come te che il mondo si sta cartocciando su se stesso Pensaci Fa dei giovani come te che il mondo va rotolino E' se il mondo andasse a rotolino veramente? Eh? Se il mondo finisse? Eh? Se il mondo scoppiasse? BOOM! E' se il mondo scoppiasse? Che cosa diresti? Che cosa penseresti? Eh? Che cosa faresti? Eh? Sarebbe la tua frase verso il mondo che cade? Allora, me ne fu! Allora, me ne fu! Allora, me ne fu!